Mie amati io a voi sono in continuità mi avvicino a ciascuno di voi per sorreggervi e per suggerirvi sottovoce parole d'amore e sostegno nel corso del vostro volgere inquieto. A volte sentite le nostre vibrazioni, percepite una nuova dimensione di luce e provate una serenità inaspettata. Spesso però distratti, voi non ascoltate troppo prese dall'inutilità, vi impegnate ad assolvere logore manifestazioni della piccola mente in disordine. Moltissimi curano i segni del tempo sul corpo e non si rendono conto del crudele oltraggio a cui lo sottopongono. La vera essenza è nel sé interiore e non nella manifestazione illusoria. Il vostro sé è nel tempio del vostro essere che non è invecchia e non si logora, perché è al di là del tempo e dello spazio. Voi siete un'entità eterna e il soggiorno nella materia è un breve attimo necessario per evolvere il vostro stato di coscienza e nel comprendere, potete superare gli errori commessi, dovuti ad insipienza ed ignoranza nelle passate e nelle presenti esistenze. Voi siete come un'onda dell'oceano, voi siete l'oceano stesso, voi siete nell'unità infinita senza fine né principio. Nel tempo in cui esistete sulla Terra, avete avuto e avete molte prove, che vi attendono. Non pensate alla morte e non temetela. Innanzitutto non vi affliggete per il dolore fisico o mentale, a cui potreste essere sottoposti. Quella sofferenza appartiene solo alla vita della materia e, come la materia, si consuma rapidamente. Non rimuginate sulla nascita e la morte, né sulla gioia e sul dolore. Questo stato è un ciclo, che avviene nel mondo della polarità e tutto quanto esiste, è solo perché nel tempo ogni cosa si trasforma. Il Maestro dei Maestri volle dimostrare all'umanità con il suo sacrificio umano, quanto forte potesse essere il dolore, che trasformato in amore era donato ai fratelli. Ciò fu compreso da chi volle comprendere. Il potere costituito lo manipolò, lo mutò in dipendenza, in senso di colpa, in sottomissione alla paura e alla fede nell'amore universale senza confini e senza remore. Per falsa imposizione teologica, giocò sull'ignoranza dei semplici, sulla paura dei castighi, della morte e della confusione dei tanti. Non pensate alla morte come a un salto nel buio, voi conoscete bene l'altra dimensione perché ci siete già stati, anche se ora non ne avete memoria. Siete già morti tante volte e tante volte siete rinati. È più giusto per voi temere la nascita, ma non la morte. La nascita è morte per lo spirito. Il ritorno a casa è una festa e tutti dovrebbero gioire, ma la mente limitata della materia è toccata dalla sofferenza dell'ignoranza e si sente dilaniare per la separazione e il distacco terreno di un affetto. Quando Eva si trovava in Adamo, la morte non esisteva, essa è sopravvenuta nel tempo in cui lei fu separata da lui. Se le due parti separate si ricongiungeranno in una cosa sola, la morte non ci sarà più. La morte è solo separazione e la separazione è maia, è illusione. La fusione dell'anima e del corpo uniti nella sacralità, è l'energia divina e la più potente che esiste nella dualità. Ogni essere è congiunto ad altri esseri, agli animali, alle piante, ai minerali. Ogni cosa, che vi appartiene è congiunta a voi ed a viva, come è viva ogni cosa esistente nella natura. Nella natura nulla muore, perché ciò che muore rinasce ancora e vive per poi morire e ancora rinascere trasformata. Una piccola ghianda si trasformerà generando una grande quercia, che vivrà e vibrerà per secoli. La verità è che la vita e la morte sono la medesima cosa e sono proiettate con la medesima energia in frequenze elicoidali in continua evoluzione. Non c'è vita senza morte, non c'è morte senza vita. Muore l'illusione della materia per trasformarsi e rinascere come coscienza spirituale e quando in natura si estingue, si trasforma evolvendosi e rivivendo nella natura stessa. Siate coerenti con voi medesime, sviluppate l'equanimità mentale e l'amore universale, affinché possiate sperimentare ogni stato umano e spirituale e possiate raggiungere l'unità nella diversità. Le strade sono tante, ma la meta è unica e la si può raggiungere in tanti modi diversi. Tante sono le culture, tante le religioni, tante le razze e le specie, ma sono generate tutte dalla stessa fonte. Tanti mondi compongono un universo, tanti universi compongono un cosmo, tanti cosmi compongono l'unità assoluta. Il Maestro ha detto vi sono molte dimore nella casa del Padre. Innumerevoli piani d'esistenza costituiscono il mondo spirituale. Nel tempo di trasformazione accelerata in cui ora siete, ciascuno ha il suo compito che porta all'unico fine, che voi ben conoscete nel vostro tempio più profondo. Le leggi umane possono variare per culture o per differenti interessi storici geografici, ma la legge cosmica universale, che fa parte della coscienza evolutiva, è la stessa per ogni popolo in qualunque latitudine e in ogni cultura, ed è verità assoluta. Attraverso la saggezza e la comprensione, che si trasformano prima in tolleranza poi e in amore, una creatura può trasformare l'io in noi. Tale trasformazione apre i cancelli della separazione nella materia per rendere l'essere libero e cosciente della vita cosmica. L'energia cosmica dell'immanifesto è differente dall'energia della manifestazione nella materia. L'intero universo fisico fa parte del mondo manifesto e vibra in frequenze di trinità che, variando la propria densità, creano tipi di forme diverse. Esse infatti manifestano l'insieme del tutto nell'uno e la creazione dell'assoluto. Il mondo della manifestazione riceve energia da vibrazioni potenti per volere divino. Il fuoco solare e spirituale, detto semplicemente amore, è la frequenza di congiunzione, che si manifesta e dà corpo alla manifestazione di trinità totale. Ciò avviene in ogni situazione della vostra esistenza, ogni azione ha tre componenti celate alla mente comune. Nel vostro mondo, nel vostro sentire più intimo per voi cosa è il simbolo del segno della croce? Il rituale religioso, che vi appartiene impiega tre nomi di Dio e tocca quattro fondamentali punti cardinali. Questo segno non rappresenta la croce, che ha impalato il figlio dell'uomo al suo sacrificio, ma è la discesa della luce e dell'energia spirituale nella propria aurea e centri principali. La testa corrisponde al centro psico-spirituale fonte di conoscenza e capacità di pensiero. Il petto corrisponde al cuore ed è il centro delle emozioni e sentimenti d'amare. La spalla sinistra è il centro dell'energia creativa, la destra è quello della vitalità. Il segno della croce è un simbolo di forte energia di origine cosmica, che proviene da tempi lontanissimi e, concentrando tutta l'energia, i pensieri e il vostro amore su ogni centro, attiva e risveglia in voi la fonte primigenia della vita. Nel nome del Padre attivate la saggezza divina e con l'atto invocate che si possa manifestare in voi. Nel nome del Figlio la vostra coscienza è sul centro del cuore e voi invocate che l'energia spirituale scenda dal centro della testa per illuminarvi manifestando l'amore divino nel vostro centro dell'affettività. e dello Spirito Santo, focalizzando la coscienza sui centri delle spalle, voi dirigete l'energia creativa divina e l'energia vitale in tutto il vostro essere umano. Fuoco, acqua, aria e terra sono parte di voi stesse e della vostra vita. Il rituale del segno della croce è dunque uno dei misteri profondi della fonte primaria e non va eseguito meccanicamente con leggerezza e inconsapevolezza, ma con profonda devozione e vera consapevolezza. Per avere la vostra vita spirituale più piena e serena entrate nello Spirito delle tre funzioni essenziali della coscienza e siate sempre conoscenza, amore e creazione. Stimolate ed edificate al massimo le vostre capacità di pensare, di sentire e di volere. Questi sono i tre doni che i Re Magi portarono a un bambino. L'oro è la conoscenza, l'incenso è l'amore e la mirra, la volontà umana offerti al sé e alla scintilla divina, affinché si possano trasformare in voi in saggezza, amore e volontà divine. Fate crescere dentro di voi, nelle vostre coscienze e nella vostra vita questo piccolo rituale per trasformarlo e renderlo vivo nel vostro corpo, nella vostra mente e nella vostra anima. Dopo qualche tempo sentirete che prima eravate morti e addormentati e che ora vi siete risvegliati e finalmente vivi alla vera vita. A quella eterna vita a cui tutti sono destinati. Vi benedico in amore e luce e siamo voi in saggezza vicine. Una maestra di luce cosmica.